Ciao, mi chiamo Sal e sono un importante produttore di vini. Tra le edilizie delle cantine di Sal ci sono dei bianchi fermi, bianchi fruttati e non possono mancare le meravigliose bollicine, ma il vero grande orgoglio delle cantine di Sal è il nero, nero Sal Vini. Non mancare alla prossima degustazione dei neri Sal Vini.